Mostre, workshop, incontri d'autore, proiezioni ed eventi per le scuole saranno al centro della quinta edizione di Imagina Revolution, rassegna fotografica a cura dell'associazione Social Photography Street 6212 in collaborazione con il FIOF che quest'anno diventa Sharing. Tutte le attività sono ospitate dal Polo Museale Santo Spirito di Lanciano da mercoledì 10 maggio a domenica 14. Continuiamo a portare a Lanciano i grandi nomi della fotografia, spiega il promotore Roberto Colacioppo per riflettere e discutere sul ruolo che l'obiettivo ha assunto al giorno d'oggi. Si inizia mercoledì con l'inaugurazione delle 11 mostre fotografiche e alle 21 gli incontri con il fotoreporter Embedded Giuseppe Lami e lo storico e critico dell'arte contemporanea Augusto Pieroni. L'obiettivo è proprio quello, avvicinare quanto più possibile tante persone nel mondo della fotografia attraverso questi professionisti che arrivano a Lanciano per portare le loro esperienze e insegnare quello che è la fotografia oggi nel mondo della camera chiara, che è la fotografia digitalizzata, quindi ci saranno due workshop importanti, una con Gianluca Cazzeddu che è un professionista e guru proprio di Adobe Photoshop e un fotografo certificato per insegnare tutto questo. e abbiamo poi il sabato e la domenica con Danilo Balducci che farà un reportage sull'area urbana della città di Lanciano, quindi ci saranno tanti ragazzi che si sono iscritti al workshop sia con Cazzeddu che con Danilo Balducci per vivere queste esperienze straordinarie che noi abbiamo dato la possibilità di farlo soffrire a tutti gli associati e non della città di Lanciano.